Siamo a bordo della DS3 Black Lizard, un'edizione limitata dove il nero domina in contrastato non solo sulla carrozzeria, ma anche negli accessori dedicati e nei tanti dettagli artigianali. La caratteristica alla texture che gli specialisti del laboratorio di personalizzazione DS Automobili hanno applicato a mano sul tetto e sullo spoiler posteriore, impiegando due ore per ogni vettura. Richiama la pelle di un rettile e, a seconda della luce, ricrea quegli effetti di imbottitura degli accessori della Maison d'Altamoda che si abbinano in modo perfetto al nero perla. Il colore scelto per la carrozzeria mette in risalto i cerchi in lega da 17 pollici e gli specchietti retrovisori bicolore, nero lucido e cromati. Internamente risulta gradevole il rivestimento in tessuto nero basalto e la plancia black style nero lucido, che rimandano idealmente alle passerelle delle griff parigine e al comfort tipico delle DS anni 50, sottolineato anche dalla spessa moquette dei tappetini. La DS3 Black Lizard vanta i migliori elementi tecnologici di DS Automobili, come il touchpad da 7 pollici, il Pack Auto e il DS Connected Box. La versione da noi provata, ovvero il diesel Blue HDI 1.6 da 100 CV di potenza, risulta leggermente rumorosa, ma si può sempre optare per il motore benzina PureTech 110 con cambio manuale.